Allora ho qui vari commentari del profeta Zaccaria, il commentario di San Girolamo, il commentario di San Cirillo di Alessandria e anche il catechismo di San Cirillo di Gerusalemme. Si tratta di tre sandi, padri e dottori della Chiesa. Quindi i padri della Chiesa già in passato ci hanno spiegato le scritture e quindi quello che voglio fare è in pratica trasmettere a voi, sintetizzato, quello che ci hanno spiegato i padri della Chiesa per quanto riguarda Zaccaria capitolo 14. Un capitolo molto importante perché ci troviamo molte profezie che si sono già adembiute e una che si deve ancora adembiere che riguarda la seconda venuta di Cristo. Infatti Zaccaria capitolo 14 versetto 5 dice verrà il Signore il mio Dio e con lui tutti i suoi santi. Erroneamente i testimoni di Geova che sono millenaristi traducono qui Geova al posto di Signore e quindi fanno chiaramente un clamoroso errore perché qui nel versetto 4 leggiamo che i piedi di Geova, se leggete nella traduzione del Nuovo Mondo, i piedi di Geova si poseranno sopra il Monte degli Olivi. È chiaro che non si tratta dei piedi di Geova, a parte che Geova comunque è un nome falso, non è il nome di Dio ed è stato inventato dai Masoreti intorno all'anno 1000. Quindi qui si parla chiaramente di Gesù Cristo, non è Geova che scende sul Monte degli Olivi, ma è Gesù Cristo che è già sceso sul Monte degli Olivi, si tratta appunto di una profezia che riguarda la prima venuta di Cristo. Ma voglio esaminare adesso questo capitolo, cercherò di essere più breve e conciso possibile e utilizzerò anche la 70 greca, la Bibbia dei 70 è molto importante perché i padri della Chiesa utilizzavano la 70 greca, quindi utilizzavano il testo della 70. Mentre noi, purtroppo, nelle nostre Bibbie moderne, questo testo di Zaccaria 14 viene tradotto dal testo masoretico che risale all'anno 1000. Ma qui troviamo chiaramente un errore di traduzione da parte dei Masoreti, non lo so se l'hanno fatto apposta perché sto riscontrando che i Masoreti che erano ebrei e che non credono nel Nuovo Testamento e che non credono in Gesù come Messia, ho riscontrato che nel testo masoretico spesso loro hanno tradotto in maniera diversa in modo da poter adombrare le profezie, cioè rendere difficili da capire le profezie che riguardavano appunto la venuta del Messia. Siccome questo capitolo 14 riguarda appunto profezie che si sono già adembiute e che riguardavano la prima venuta di Cristo, ecco che il testo masoretico, il testo ebraico, traduce, e il primo versetto traduce, ecco viene un giorno per il Signore, quindi un giorno per il Signore. Mentre il testo greco della settanta che è più antico rispetto al testo masoretico, e di fatti i padri della Chiesa nei primi secoli hanno utilizzato sempre il testo della settanta greca. Io come vi dicevo prima questi commentari, sia San Girolamo sia i due Cirillo, i Santi Cirillo di Alessandria e di Gerusalemme, hanno utilizzato per spiegare Zaccaria, hanno utilizzato il testo della settanta greca. Anche se tenevano conto della traduzione ebraica, che comunque anche San Girolamo traduce anche in ebraico, e non traduce come traduce il testo masoretico, cioè ecco viene un giorno per il Signore, ma giustamente traduce ecco giungono i giorni del Signore, plurale, quindi si tratta di più giorni, non di un solo giorno come erroneamente traduce il testo masoretico. Quindi nella settanta greca noi leggiamo, Zaccaria 14.1, ecco giungono i giorni del Signore. Quindi si riferisce a più eventi accaduti, profetici, di cui il primo evento lo troviamo nel versetto 2, radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violate e metà della città andrà in esilio. Questo si è già chiaramente adembiuto, questo era un giorno del Signore, ecco giungono i giorni del Signore. La caduta di Gerusalemme, questo è accaduto nel settanta dopo Cristo, quando i romani hanno conquistato Gerusalemme, l'hanno presa e veramente si è adembiuto perché sono stati portati in esilio, sono stati portati in esilio gli ebrei. Quindi qui non si riferisce alla seconda venuta di Cristo, perché qui si tratta, ce lo dice chiaro il testo, ci dice che metà della città andrà in esilio e questo si è già verificato nel settanta dopo Cristo. Poi il versetto 3 dice Il Signore allora verrà e si schiererà contro quelle nazioni come quando si schiera in un giorno di guerra. Sembra descrivere una guerra, allora Il Signore incomincia la sua guerra partendo da Gerusalemme. Difatti San Cirillo, per esempio di San Cirillo di Alessandria, ci menziona quella famosa parabola di Gesù dove i malvaggi vignaioli uccidono il figlio del padrone della vigna e allora Gesù dice che pensate che farà il padrone della vigna? Ecco, verrà con gli eserciti, ucciderà quei malvaggi vignaioli, gli toglierà la vigna e la darà ad altri. E questo infatti è accaduto, quindi Gesù inizia la sua guerra proprio da Gerusalemme perché a causa del fatto che loro hanno crocifisso, hanno rifiutato il Messia e lo hanno crocifisso ecco che per punizione gli eserciti romani hanno conquistato Gerusalemme e quindi Gerusalemme è caduta. Qui tra l'altro troviamo questa espressione che il Signore si schiererà contro quelle nazioni ed è iniziata già questa battaglia in Atti 4, 26 e 27 ecco che cosa dice San Pietro Perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono il re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo Versetto 27 Davvero in questa città, si riferisce alla Gerusalemme terrena Erode e Ponzio Pilato con le nazioni e i popoli si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù che tu hai consacrato Quindi vedete questa battaglia è già iniziata quindi questa profezia si è adempiuta ed è anche in corso di adempimento Perché Dio giudicherà tutte le nazioni Ora passiamo al versetto 4 In quel giorno, vi ricordo che si parla dei giorni del Signore Il contesto è importante, il primo versetto Ecco giungono i giorni del Signore Un giorno del Signore è stata la distruzione di Gerusalemme E qui ora giunge un altro giorno del Signore Dice il Signore allora verrà Si schiererà contro quelle nazioni Versetto 4 In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli ulivi Quindi il Signore verrà Qui si riferisce chiaramente alla prima venuta di Cristo Dove Gesù Cristo Veramente ha posato i suoi piedi sul monte degli ulivi Infatti i Vangeli ci dicono chiaramente che Gesù era solito andare a pregare Proprio sul monte degli ulivi Ed è sul monte degli ulivi che Gesù viene tradito da Giuda E viene catturato dai giudei Che viene quindi poi consegnato nelle mani dei romani Infatti Luca 22,39 Dice proprio questo Luca 22,39 Uscì e andò come al solito Al monte degli ulivi Ecco che qui poi arrivarono i soldati Hanno quindi catturato Gesù Quindi quando qui leggiamo questa profezia E chiara dice Già si è adempiuta nel versetto 3 Il Signore allora verrà E in quel giorno Versetto 4 I suoi piedi si poseranno sul monte degli ulivi Che si trova davanti a Gerusalemme A oriente Quindi Gesù cosa è accaduto Lo hanno preso Lo hanno consegnato ai romani E lo hanno crocifisso Ecco cos'è accaduto Il monte degli ulivi Si spaccherà in due Una metà verso oriente L'altra metà verso il mare Chiaramente questo non è avvenuto letteralmente Si tratta di profezie Che sono quindi velate Cos'è accaduto Quando Cristo è stato crocifisso E Cristo è stato proprio crocifisso Ai piedi del monte degli ulivi Nel Golgota E E' accaduto appunto E' accaduto proprio questo C'è stata questa divisione Perché Gesù era in mezzo E alla sua destra E alla sua sinistra C'erano i due ladroni Il ladrone della destra Arrivato a un certo punto Crede in Gesù Cristo E gli dice Ricordati di me quando tu sarai venuto nel tuo regno E Gesù cosa gli ha risposto? Io ti dico Oggi stesso Tu sarai con me In paradiso Ecco che avviene questa divisione Il ladrone Che si trovava alla sinistra di Cristo Non crede Che Gesù è Dio E quindi va Nell'inferno Viene separato L'altro invece va in paradiso Ecco vedete la separazione In quel giorno C'è quando Cristo I suoi piedi si poseranno Sul monte degli ulivi Gesù quindi viene Consegnato nelle mani Dei romani Viene crocifisso Avviene questa Divisione La divisione Tra le pecore E tra le capre Inizia quindi Questa divisione Poi si parla appunto Di questo Almeno il testo Greco Parla di un enorme Abisso Che si Che si apre Ed è appunto L'abisso che inghiotte Tutte le persone Che non vogliono Che non credono In Cristo Come il ladrone Che stava alla sinistra Che non ha voluto Credere In Cristo Poi i padri della chiesa Qui ci spiegano Anche che qui Poi si riferisce Questa divisione Appunto alla predicazione Che ci sarebbe stata Del Vangelo Successivamente E mediante la predicazione Avviene questa Divisione Poi ancora leggiamo Nel versetto 5 Il versetto 5 È un po' più difficile Da comprendere Perché Il testo Masoretico Quindi come traducono Le nostre Bibbie Leggiamo Allora voi fuggirete Cioè quando sarebbe Accaduto questo evento Quindi quando Gesù I suoi piedi Si sarebbero posati Sul monte degli Ulivi E sarebbe stato Consegnato Nelle mani Dei giudei E dei romani Per essere crocifisso Allora voi Fuggirete Dice la scrittura E fuggirete Come quando Fuggiste durante il terremoto Quindi si parla Di un terremoto E questo è profetico Perché quando Cristo È stato crocifisso C'è stato veramente Un terremoto Infatti la scrittura Nel Vangelo di Matteo Ci dice proprio questo Ci fu Un terremoto E oltre a questo Allora voi fuggirete Questo è accaduto Realmente Perché gli apostoli Quando Gesù Fu catturato Ecco che fuggirono Tutti quanti Addirittura Un suo discepolo Rimase Nudo Fuggì Nudo Dice la scrittura Questo lo potete leggere In Marco Capitolo 14 Versetto 50 E Matteo Capitolo 26 Versetto 56 Ma il testo greco Non traduce Con la parola Fuggirete Ma traduce Con un'altra parola Dice La valle dei miei mondi Si ostruirà E la valle dei mondi Si salderà E si ostruirà Come quando si ostruì Nei giorni Del terremoto Quindi anche qui Si parla di questo terremoto E quando c'è stata appunto La crocifissione Di Cristo Si è adembiuta Questa profezia C'è stato veramente Il terremoto C'è stato come abbiamo letto Nel contesto Nel versetto precedente Cioè il 4 C'è stata questa separazione Quando Cristo Si è stato crocifisso Quindi vengono Separati i giusti Dai cattivi Le pecore Dai capri Ma cosa significa Si ostruirà La valle Si ostruirà Questa valle La valle dei miei mondi Si ostruirà Ecco io ho fatto Una mia ricerca Secondo i padri Della chiesa I mondi Qui Si riferiscono Agli apostoli E poi vedrò di fare Magari un video A parte Se avrò tempo Qualche volta Per spiegare Appunto Con le scritture Cosa sono i mondi E sono appunto Rappresentano Gli apostoli Ma Ci sarebbe da citare Molte scritture Ma adesso Non credo che sia Il caso Ma vi ne cito Soltanto Uno o due Ecco Isaia 52 7 per esempio Dice Sono belli Sui mondi I piedi Di chi annuncia La pace Che annuncia La salvezza Che dice a Sion Il tuo Dio Regna Questo passo Tra l'altro Viene spiegato E citato Da San Paolo Quindi si riferisce Ai predicatori Del Vangelo E chi sono stati I primi Che hanno predicato Il Vangelo Sono stati Gli apostoli I dodici apostoli E i dodici apostoli Dice la scrittura Sono Il fondamento I profeti E gli apostoli Sono il fondamento Della chiesa Cioè Le fondazioni Della nuova Gerusalemme Della Gerusalemme celesta Salmo 86 1 3 Leggiamo Parlando appunto Di questa Gerusalemme celeste Della città di Dio Le sue fondamenta Sono sui monti Santi Il Signore Ama le porte Di Sion Di te Si dicono cose stupende Città Di Dio Ecco Qui si parla chiaramente Della città celeste E dice che le sue fondamenta Quindi le fondamenta Della Gerusalemme celeste Sono sui monti Santi E' chiaro Che questi monti Santi E' un linguaggio Quindi figurato Rappresentano Gli apostoli I dodici apostoli Che in un altro passo Nel nuovo testamento Ci viene detto Che sono Le fondamenta Della Della chiesa Quindi la chiesa E' fondata Sugli apostoli Poi dice Il Signore Ama le porte Di Sion Se leggete Apocalisse Ci sono queste Dodici porte Che ci sono Appunto Scritti I nomi Degli apostoli Quindi Troviamo Gli apostoli Nella Gerusalemme celeste Nella descrizione Che viene fatta In Apocalisse E quindi Il Salmo 86 Da 1 a 3 Come anche altri Salmi E altre Scritture Profetiche Di Isaia Ci dimostrano Insomma Che questi mondi Rappresentano Senza ombra di dubbio Rappresentano Gli apostoli Quindi Quindi quando Qui dice Voi fuggirete Sui mondi E' un'allusione Alla fuga Che prima In un primo tempo Hanno fatto Gli apostoli Quando Cristo E' stato catturato Sono tutti scappati E fuggiti via Però poi dopo Questi Questi mondi Hanno predicato Il vangelo E quindi Adesso Noi siamo Che fuggiamo Nei mondi Cioè Troviamo Rifugio Nei mondi Chiaramente E' un linguaggio Per farci comprendere Che il vangelo Che viene predicato Dagli apostoli E' salvezza Per noi Che crediamo Noi che quindi Troviamo un rifugio Su questi mondi Che sono Il fondamento Della chiesa Quindi Vedete E' un linguaggio Spirituale Per quanto riguarda Quando noi qui leggiamo Che si ostruirà Si ostruirà La valle La valle dei miei mondi Si ostruirà Ecco Io Ho trovato In Isaia Capitolo 40 Versetto 3 Leggiamo Una voce grida Nel deserto Preparate la via Al Signore Appianate Nella steppa La strada Per il nostro Dio Ogni valle Sia colmata Cioè Ostruita Colmata Appianata Questo significa La valle E il Salmo 22.4 Dice Se dovessi camminare In una valle Oscura Non temo alcun male Perché C'è accanto a me Il Signore Quindi La valle oscura In pratica Di questo mondo Viene Appianata Questo è Il significato Che Quando noi qui leggiamo Nel testo greco Che la valle Sarà Sarà Colmata Ostruita E' un po' Come leggiamo Qui in Isaia 44 Allora si rivelerà La gloria del Signore E ogni uomo La vedrà E ogni valle Sia colmata Ogni mondo E colle Siano abbassati Il terreno Accidentato Si trasformi In piano E quello Scoscesso In pianura Cioè In pratica Ci viene preparata La strada Della salvezza Perché? Perché sarebbe venuto Il Signore Allora si rivelerà La gloria Del Signore E ogni uomo La vedrà Qui chiaramente E' una profezia Che riguarda anche La prima venuta Del Signore E poi il versetto 9 Ci dice Sale su un alto mondo Su un alto monte Tu che rechi Liete notizie In Sion Alza la voce Con forza Questi che salgono In un alto monte Sono chiaramente Sono stati I primi Gli apostoli Che hanno predicato Il Vangelo Quindi vedete Nella profezia Nelle profezie Noi troviamo appunto Queste allusioni E dobbiamo capirne Semplicemente Il significato Poi La profezia ancora Era molto dettagliata Vado adesso A concludere Quindi si parla Di questi monti Che rappresentano Gli apostoli Il terremoto Che è realmente Avvenuto Quando Cristo È stato crocifisso E poi La parte finale Del versetto Invece si riferisce C'è il versetto 5 Si riferisce Alla seconda venuta Di Gesù Quando dice Allora il Signore Mio Dio Giungerà Insieme Con tutti I Santi Quindi abbiamo Abbiamo visto Nel versetto 4 Al momento Della crocifissione Il monte Il monte Si divide In due È un linguaggio Figurativo Le pecore Da una parte Le capre Da un'altra parte Finché poi Nel versetto 5 La parte finale Leggiamo Che poi Giungerà Il Signore Con tutti I suoi Santi Quando si completerà Il numero Degli eletti Dei salvati Ecco che verrà Ci sarà poi La seconda venuta Di Cristo Per la distruzione Di questo mondo Il versetto 6 Ancora leggiamo In quel giorno Non ci sarà luce Ma freddo E gelo Ecco Ritornando ora al contesto Il contesto Il primo versetto Nella 70 Grega Leggiamo Ecco Giungono I giorni Del Signore Quindi Un giorno del Signore È stata la crocifissione Un giorno del Signore È stato Quando Cristo È stato catturato È stato preso Dai capi Sacerdoti Che sono Andati lì Nel Nel monte Degli ulivi Quindi Gesù È stato tradito Da Giuda E è stato Consegnato Nelle mani Dei giudei E qui dice In quel giorno Non ci sarà Luce Ma freddo E gelo Ecco Quando Leggiamo questo San Gerillo Di Gerusalemme Ci spiega Questo Questo passo E come Come ce lo spiega È già avvenuto Perché Si riferiva Appunto Quella notte Perché dice Quel giorno Non ci sarà Luce Quindi era di notte Ma freddo E gelo E se leggete Giovanni 18 18 18 E Amos 8 9 Adesso lo andiamo a leggere Ecco ma Amos 8 9 Si trattava anche questa Si tratta di una profezia Che si è ad embiuta In quel giorno Dice farà tramondare Il sole A mezzogiorno A quale giorno Si riferiva Chiaramente Questa profezia Al giorno che Cristo È stato crocifisso Cos'è accaduto Dice la profezia Vattora lo leggiamo Giovanni 18 18 Dice proprio Che a mezzogiorno Scesero Le tenebre Su tutta La terra Giovanni 18 18 Ecco Giovanni 18 18 È importante Perché Zaccaria La profezia Dice che in quel giorno Non ci sarà luce Ma freddo E gelo E questo è accaduto Veramente Quando Cristo è stato Quando Cristo è stato Diciamo Preso Dai capi sacerdoti Dice Intanto i servi E le guardie Avevano acceso un fuoco Perché faceva freddo E si scaldavano Anche Pietro Stava con loro E si scaldava Quindi stranamente Nonostante che era Il periodo di Pasqua Quindi primavera C'era freddo Si scaldavano addirittura Proprio come la profezia Aveva Profetizzato Che il giorno Che Gesù sarebbe Stato catturato Cioè sarebbe stato Consegnato Nelle mani Degli empi In quel giorno Doveva essere Notte Non c'era Non ci doveva essere Luce Vedi in quel giorno Non ci sarà luce Quando questo accadrà Infatti Questo fatto è avvenuto Di notte Ma c'era freddo E c'era gelo Secondo il testo Della settanta greca Poi dice Quel giorno È noto Al Signore E difatti Gesù sapeva benissimo Il momento E l'ora In cui sarebbe Stato consegnato E che sarebbe Stato tradito Da Giuda I Vangeli Proprio ce lo dicono Gesù sapeva Benissimo Quando Come E il momento Esatto Che questo Sarebbe accaduto Ecco perché La profezia Ci dice Quel giorno È noto Al Signore Quindi Si è già Adempiuto Chiaramente Ecco qui Che ora Si passa Sempre Nello stesso Nella seconda Parte Del versetto 6 Leggiamo ancora E non sarà Né giorno Né notte Ma verso sera Ci sarà La luce Cos'è accaduto Quando Cristo È stato Crocifisso Dopo che Gesù Quindi viene consegnato Viene tradito Da Giuda E viene consegnato Nelle mani Dei capi Seicerdoti Gesù viene Crocifisso E cos'è accaduto Cosa ci dice La scrittura Ecco adesso Ve lo leggo Matteo 27 45 Abbiamo letto Prima Amos 8 9 Farò tramontare Il sole A mezzogiorno E questo Si è adembiuto Perché Matteo 27 45 Ci dice Proprio questo Matteo 27 45 A mezzogiorno Si fece buio Su tutta La terra Fino alle 3 Del pomeriggio Amos Il profeta Amos Profetizzava questo Amos 8 9 Farò tramontare Il sole A mezzogiorno E di fatti A mezzogiorno Ci fu buio Quando Cristo È stato Crocifisso Fino alle 3 Del pomeriggio Cosa diceva La profezia Di Zaccaria Capitolo 14 Dice che era un giorno Conosciuto dal Signore Gesù sapeva Il momento e l'ora Che sarebbe stato tradito E che sarebbe stato Ucciso E non sarà Né giorno Né notte Perché Cos'è successo A mezzogiorno A mezzogiorno Non era più Né giorno Ma non era Neanche notte Perché dice La scrittura A mezzogiorno Si fece buio Su tutta la terra E quindi Si è adembiuta Questa profezia Dove Diceva Che Non sarebbe stato Il giorno Della crocifissione Di Cristo Non sarebbe più stato Né giorno Né notte Ma verso sera Ci sarà la luce Ecco che La profezia Vedete come è dettagliata A mezzogiorno Si fece buio Su tutta la terra Fino alle tre Del pomeriggio Dopo le tre Del pomeriggio Un'altra volta C'è stata La luce Vedete Le profezie Sono molto dettagliate Bisogna semplicemente Afferrarne il senso E Comprenderle E poi Il versetto 8 Concludo adesso Dice In quel giorno Cioè nel giorno Che Cristo è stato Crocifisso Cos'è accaduto Il soldato Cosa fa Gli colpisce Con la Con la lancia Il costato E Cosa dice Giovanni Leggiamo in Giovanni 19 24 Che uscirono Dal suo costato Acqua E Sangue L'acqua È figura Del battesimo È figura Dello spirito Santo L'acqua E il sangue Mediante queste due cose Cristo Ci ha Ci porta Alla salvezza Perché ci riscatta Mediante il suo sangue Sulla croce Ma nel battesimo E con lo spirito Santo Ci conduce Alla salvezza Quindi vedete Anche questo Dettaglio È importante In quel giorno Da Gerusalemme Perché Gesù è stato Crocifisso Fuori da Gerusalemme Ma Da Gerusalemme Sgorgerà Acqua Viva Dal costato Di Gesù È sgorgata Quest'acqua Ma poi A Gerusalemme C'è stata La discesa Dello spirito Santo Quindi è sgorgata Quest'acqua Viva Perché gli apostoli Poi Dopo la Pentecosta Hanno incominciato A predicare Il Vangelo Da quel momento In poi In tutto il mondo Quindi da Gerusalemme Sgorgerà Acqua Viva In quel giorno Vedete Un altro giorno Ancora Profetizzato Viene profetizzato Quindi La Pentecosta E poi Dice Che Quest'acqua In pratica Va Sgorgerà Acqua Viva Ok Dice che va Nel mare Ma il mare Chiaramente Il mare Dell'umanità Di fatto Anche l'Apocalisse Ce lo dice Che le acque Simboleggiano Popoli Folle Nazioni Quindi Quest'acqua Si espande Che è lo Spirito Santo Chiaramente Figura dello Spirito Santo Si espande Mediante la predicazione Degli apostoli In tutta la terra abitata Ed ecco che Il versetto 9 Dice Il Signore Il Signore sarà re Su tutta la terra In quel giorno Il Signore sarà uno E uno il suo nome Quindi da quel giorno in poi Il Signore Riceve ogni potere Perché poi Cristo risorge Il terzo giorno Leggiamo nei Vangeli Che è risorto E cosa dice Gesù Quando dopo che è risorto Ogni potere Mi è stato dato In cielo E sulla terra Ed il Signore E quindi è il re Di tutta la terra E il suo nome è conosciuto In tutta la terra E poi dopo Più avanti La profezia ancora Descrive Tutti gli eventi Già accaduti Naturalmente Ci descrive poi La Gerusalemme Celeste Ci descrive il re Che sta seduto In cielo Nella Gerusalemme Celeste Leggete infatti La lettera Agli Ebrei Nel capitolo 12 Lì viene descritta Appunto Questa città Celeste Dove c'è L'assemblea Ci sono riuniti Diciamo Tutti i santi Ci sono gli angeli Di Dio E quindi Poi dopo Ci descrive Appunto Queste cose Quindi vedete Zaccaria capitolo 14 Ho cercato di fare Un esame Più breve possibile Ci sarebbero tanti Particolari Da esaminare Ma Zaccaria 14 Ecco Giungono I giorni Del Signore Abbiamo visto Più giorni Il giorno Della distruzione Era stato profetizzato Il giorno Della distruzione Di Gerusalemme Il giorno Della crocifissione Di Cristo Il giorno Che Cristo È stato Catturato Quindi consegnato Nelle mani Dei empi Il giorno In cui In pratica Da Gerusalemme Verrà Verrà insieme Con tutti I suoi Santi Questo accadrà Alla fine Dei tempi Bene Dio vi possa Benedire Una buona giornata Di gerusalemme